Sono processi molto importanti e abbiamo deciso di portare questo evento all'interno di Sport Day, questo evento che ormai da anni è un punto di riferimento dello sport non solo irpino ma anche regionale e quindi il nostro sarà un evento che andrà ad arricchire ulteriormente questa Kermess così importante messa in piedi ormai da un bel po' di anni dal Presidente Saviano, quindi ci saranno gli esami di cintura della nostra Accademia. E porterà anche i suoi campioni? Ovviamente, voglio dire, sono il mio orgoglio e credo che sia l'orgoglio di un'intera provincia. Ovviamente anche lì faremo una cosa molto importante, renderemo gloria a questi ragazzi facendo delle premiazioni che io di anno in anno ormai già da un bel po' abbiamo fatto e premieremo il miglior atleta dell'anno e il campione dell'anno. Quindi durante la stagione sportiva raccogliamo dei crediti formativi in base a quello che è l'attività e ovviamente in modo meritocratico cerchiamo di premiare questi atleti e far sì che loro possano essere da modello sportivo da seguire per gli altri ragazzi della nostra Accademia. Uno è qui con lei? Sì, c'è Raffaele Carenza, neocampione italiano, finalmente anche lui è riuscito a salire sul podio tricolore quest'anno alla Coppa Italia, ha disputato un campionato italiano eccellente, una performance davvero di alto livello, non ha sbagliato quasi nulla, davvero pochissimi errori. Siamo riusciti, non dico per fortuna ma per bravura soprattutto del ragazzo, a mettere da parte tutte quelle lacune e a cercare di dare il meglio. Ce lo aveva già, solo che finora non era riuscito ad esprimersi al meglio, è riuscito in questa Coppa Italia, per fortuna e anche agli occhi degli addetti ai lavori, quindi del tecnico della Nazionale e quant'altro, davvero ci sono stati dei commenti molto, molto positivi. Raffaele, dopo che ho scaduto l'aiuto, adesso cosa ti aspetta? Adesso mi aspetta la rivoluzione nazionale dove cercherò di dare il meglio di me e comunque di mostrare alla Nazionale che non sono arrivato lì per fortuna. Tu dopo l'infortuna ti aspettavi di rialzarti così presto? Ne parlavo prima con il maestro appunto di questo, sinceramente non me lo aspettavo neanche io perché comunque a certi livelli è difficile tornare dopo che sei stato firmo, ma comunque mi è andata bene anche perché ho lavorato tanto e credo di essermelo meritato.